Essere o non essere? Questo è il problema, eh? Perché è un disastro, è un disastro. Io l'avevo chiesto, erano anni che chiedevo, facciamo uno spettacolo su un sottomarino giallo, yellow submarine, che finalmente la gente arriva a frotte, capito? Allora hanno detto, sì sì, mi hanno detto, sì sì, vada, vedrai, lo facciamo, lo facciamo. Io mi sono bardato così da capitano di lungo corso, pronto, eh? A guidare il sottomarino. Poi sono arrivato lì alle prove, mi hanno detto, cosa fai vestito da marinaio? Ma il sottomarino, il sottomarino giallo, no? Mi hanno detto, no, guarda, questo è uno spettacolo su un bar. Ma come su un bar? Ma sarà il bar del sottomarino? No, 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 proprio un bar in generale, capito? Un bar qualunque. Vabbè, ma sarà un bar a Liverpool, eh? Cioè sul mare, col... No, no, un bar a Roma. Come a Roma? Ma siamo i Beatles a Roma? Ho capito, però, insomma, ho chiesto, sottomarino, dai, su, eh, porca miseria, io non lo so. E invece niente, abbiamo fatto uno spettacolo su un bar. Che dobbiamo fare? Rock'n'roll bar, mi hanno detto che si chiama. Per carità, rock'n'roll, yellow submarine, i Beatles, sai, alla fine in qualche modo c'entra, però, però, non puoi fare le cose così, no? E io cosa ci faccio adesso vestito da marinaio in lungo corso? Non lo so. Vado nel bar? Vabbè, andrò nel bar così. Cosa devo fare? Il costume è questo, eh? Comunque, no, mi hanno detto, guarda, tu non ti preoccupare, vieni dal 7 al 12 febbraio al teatro allo spazio, lunedì, no, lunedì, no, perché facciamo le prove, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle 20.45. A domenica a 17.30 o qualche, insomma, pomeridiana, la pomeridiana, capito? Vabbè, io ci vado, ormai siamo i Beatles a Roma, siamo noi, mi pare brutto dare buca, però, certo, guarda, era bellissimo, sottomarino giallo, eh? Guarda qua, ora è che capolavoro. E invece, niente, rock'n'roll bar, che poi chissà cosa c'avrà sto bar, insomma, ha detto, no, guarda, è un bar, bisogna salvarlo, è in pericolo. Vabbè, pericolo, va bene, d'accordo. Ragazzi, che volete che vi dica? Io vi aspetto, eh, dal 7 al 12 febbraio al teatro allo spazio, via Sagno, prendete presente San Giovanni, diciamo, c'è il mercatino di via Sagno, insomma, la metro di San Giovanni, andate sul sito di teatrolospazio.it, oppure venite sulla nostra pagina Facebook, Beatles a Roma, prenotate, telefonate, scrivete, venite direttamente, non lo so, insomma, fate poi, noi siamo lì. Speravo il sottomarino, bar, vabbè, rock'n'roll bar. Ciao.